Sono agli organi del comune che dovrebbero interessarsi a queste problematiche. Il marciapiedi ormai non si vede più, l'erba è alta quasi un metro e camminare per i pedoni è decisamente difficoltoso. Sopra luogo delle telecamere di TV City questa mattina viale Aldomoro a Torre del Greco, dove il marciapiede sul lato destro della carreggiata, salendo dall'incrocio di corso Vittorio Emanuele, è decisamente impraticabile per la presenza di erbacce, segno che il diserbo non avviene ormai da mesi. Una situazione analoga ad altre strade della città, dal centro alla periferia, con continue lamentele e sollecitazioni ad intervenire. Eppure il piano diserbo predisposto dall'amministrazione comunale doveva già essere partito. La gente ormai è stanca e rassegnata, anche denunciare e segnalare non serve più a niente, dicono alcuni passanti a telecamere spente. Le strade sono sporche, piene di erbacce e spesso con cumuli di rifiuti. Dai balconi i residenti si affacciano, gridando che è uno scempio non più tollerabile e che il comune non fa niente per cambiare le cose. Grazie per la visione! Grazie a tutti!